Signori bentornati con il nostro magico Steelwix The Deep, sono contento che vi stia piacendo E' un'essere interessante, molti di noi stanno spolpando praticamente in due video e me lo voglio godere Perché so già che non è un titolo lungo What the fuck? Ma perché suona di nuovo? What the fuck? Aspettate un secondo che ho aumentato l'audio, praticamente era già il massimo ma ok Comunque sia, spero vi stia piacendo la serie, è molto interessante Alcuni voi mi hanno detto che su PC gira male Fortunatamente io mi paro sempre il culo, se devo registrare un gioco e posso prenderlo su console, lo prendo su console Perché almeno lì gira molto più... ma sul mio PC gira di merda a prescindere Quindi lo prendo su console e faccio prima Sicuramente mi gira decisamente meglio Comunque, ma no no Ma sono diretto alla segretaria di sto posto Cioè devo sempre rispondere a telefoni Hotline, chi è? Scooby, du? Cosa è che parlare al telefono sinché rimanere nascosto senza dire un cazzo? L'unica cosa negativa che gli do a questo gioco è il fatto che non ci sono, non so, collezionabili Io al momento non ne ho trovato e dubito ci saranno Però Cioè se non mi vuoi mettere collezionabili voglio dire almeno Fammi un gioco lungo Ok Parliamoci chiaro, un gioco deve durare almeno otto ore Un gioco del genere Ma non durerà otto ore, ve lo dice zio Fabri Non durerà otto ore Però dico giochi con una storia Almeno sulle otto ore Circa Vabbè tipo Resident Evil 4 ci ho giocato parecchio eh Almeno sulla decina di ore passo circa Tipo della Stovas ad esempio dura un casino ed è bello Quando la storia è ben scritta non ti rendi neanche conto del tempo che passa Io dico veramente otto ore più di qualità Che sono difficili da... Odore, mica sta merda Vediamo che se ne frega non è neanche tradotto Eh cosa vuoi che sia successo come in tutta la nave È successo il disagio più totale Oddio, qua non possiamo passare Eh Hello Questo è meglio non dirlo lì là Non vorrei dire eh Ok, da qua non mi fa andare no? Figurati Qua non possiamo passare perché c'è il cavo elettrico Ho scoperto Cazzo ma questa è una mano però Arco giuda Ok, il cavo davvero è tutto portato via Guarda che orrore Ah, ok Lo scoperto Ah, dai, allora Lo scoperto Ralto di Gesù è dietro di me dove voglio voltare devo aiuto stupra dove è qua 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 mica cosa si apre orca merda che faccio corri stupido fanno funzionare quelle gambette secche cazzo ma sono fottuto ma sono arrivato ok allora è dove vado all'incontro è qua qua baciami il culo non so dove sta andando raga raga Ancora! No raga, non mi molla! Oddio! Vai, 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 vai! Ahaha, 3! Jesus! Vado! Ma quello era il boss era? C'era il capo? Jesus, questa f*****a b*****a tu! Oddio! Quello era il capo! Jesus! Mi stavo domandando se lo stava sopravvissuto Ah, allo schianto dell'aereo Eh, si è direttamente trasformato Pocca m*****a! Trovo modo per aggiungere ingegneria Oh no! Alla l'elicottero Oh, come on, stai giocando! Nooo! Nooo! Cioè, allora, vedete questo Forse devo andare lì Eh, non ci ho scelto in realtà Se devo saltare Inizia a fare il colpire me lo pale Ma come muori? Il salto era giusto! Oh no! Patetico stranzo No, ma che cazzo? Scusate, che devo saltare? Sul l'elicottero? Uh! Sì! No, non ci credo! No, vabbè, sto male Oddio! Non so se avete sentito la mia gatta che mi ha colato Sì! No! Aspetta, eh! Aspetta, allora Aspetta Eh! C'è una gatta che vuole le coccole adesso Ma io devo saltare! Ah! Ma che salto? Allora Aspetta, eh! No! Mi stavo cadendo di sotto Ok Ok Uh! È fatta, eh! Tieniamo sta torcia che sembra che Faccia meno luce Del solito Forse è un'idea mia Oh! Vabbè, tanto non è che dovremmo utilizzarlo per Per... Per andarcene via Chi se ne frega, no? Cioè A meno che non volevo aggiustarlo Ma la vedo... La vedo griglia Ah, merda Liberiamo il passaggio Non so quanto il video durerà Ma guardate, ogni volta... Allora, quando ho tolto Ehm... Al secondo video Ho smesso di registrare Sono tornato al... Praticamente All'home di... Della PlayStation Eeeh... C'è scritto 35% Finchia Oh? Bruce! Ehm... C'è... Bruce! È il cuore che sta in realtà Bruce! Ehm... Kaz! Che ne so Jesus Poi c'hanno tutto il telefono vicino Jesus Ok scendiamo Come se ci fossero Collezionabili Le robe da raccogliere C'è un colno Vai Qua è bloccato ovviamente E tra l'altro uno dei trofei del gioco E' di trovare tutti Non tutti Quelli trovabili Di Compagni praticamente morti Colleghi morti ecco Tutti quelli che si possono trovare ecco Oddio Allora guarda un po' Via Bombole infiammabili Vabbè tutta cosa dover l'acqua Che mi frega Sì Io Oh Oh Di buono che qua non c'erano mostri tentacolari Per ora Ingegneria Siamo arrivati Finchè non arriva quello stronzone di prima Poi mi chiedono aiuto Aiuto Come cazzo dovrei fare Ti ho mutato in una maniera schifosa Che ti posso dare Un howling Che vuoi E questo è male Oh Desilusione No però devo dire che Nonostante è tutto Mi piace Mi piace Mi piace di più Ovviamente Amnesia A Machine for Pigs Onestamente C'è molto più atmosfera Pensavo fosse un working simulator Una certa Lo passavo nei molti Che più o meno lo è Però Vabbè Guarda Questi ragazzi Deve essere una valve Noghè Eccolo Eccolo Eh sono Eh ci manca essere solo Gassati come dei topi Per non dire altro Eh di Ok 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 Eccolo Ok 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 No Poi c'è forse ingegneria Ok stiamo arrivando Merda E siamo a ingegneria Che dobbiamo fare qui Oh Non c'è nessun ruolo per lì La barra ha fatto un po' di damage L'infrastruttura è comprometta E' proprio bellissimo Quindi come dobbiamo fare i geni a lavorare? Sì, prima cosa Prendete in questa cabina E risolta il relato protettivo Questo potrebbe rinforzare i geni Andiamo, vediamo cosa succede Ottimo Beh c'è di buono che non fanno un cazzo Allora Danno solo gli ordini Basta Fai questo e fai quello Io vado in ufficio a grattarmi il culo Le Devo controllare un attimino Oddio Gli armatiti per nascondersi Non sono mai una buona cosa Rega Voi lo sapete Oh merda Ehm Cos'è che volevi che facessi? Oddio Uso Ecco Quello di quello che salta fuori Probabilmente quello di prima Quello con gli occhialetti Che avevo beccato Nella parte duro Oye McClary Onde hai vado? Il relato protettivo E quella cabina E io me ne vado Bastarda Me ne volevo andare Quella cabina Quale cabina? Sciocca Sciocco Prepuzio Da che parte intendi? Eh Non capisco Aspetta Controllo Bello il tuo disegno qua Oh figo Ho fatto con i cavi elettrici Ah tu conta che lì non posso andare Quindi si va a esclusione Sono nel metti Ma dove cazzo è? Ah ma vaffanculo posso passare sotto Non l'avevo mica visto Maledizione alla torcia E' una plumata qua da Ecco La tazza Prepariamocene Ah ya beauty At least that works Per me Per me Ok Guarda sicuro Come la merda dopo le prugne Eh Ok sbuca qualcosa Sicuro Ah non me la fa salta la fa Miracola Guarda eh Mo c'è il mostro E' sto sicuro E' fin lì? 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 Al dlì? Ma non si occorre Avanti mai rilassare ma tutti simpatici gli inglesi ok dai ma che è che la roba ma seriamente ok no vabbè che è sta roba è un sogno che trip il problema è che ah ok di qua ti prego non sbucare nulla gesù mi fa trovare poi quelle lattine che posso raccogliere per lanciarle ma non sempre sono utili nel senso non sempre ho bisogno però ci sta a farle trovare comunque ecco come indovina è chiuso non è chiuso e allora qua scuola scuola che mi si veda dopo porca noi siamo soli non siamo soli qui sotto non posso passare è un tentacolare gigante qui sotto guarda sicuro che come li aggiusti i generatori si sveglia il mostrone è un certo gli stratagemi tipo mini passaggi per tornare indietro è sempre così non mi lascerò mai vivere in pace oh gesù mi sono cagato ma questa notizia è giusta 200 armadietti ci sono di qua posso salire ok però qua allora dove si va ah ok qui si scende torna qua ma che cazzo serve tutto sto giro scusami ma qua invece che c'è ah guarda i buboni di roba no perché allora non sono collezionabili ok però almeno voglio vedere tutte le zone no guarda che questo sia il minimo eh dai anche tu però guarda che questo cresce un po' power vabbè Jesus guarda che roba che figato sai che cazzo era questo lo sono ciucciato tutto no però allora sicuramente dobbiamo passare da qua poi di qua poi di qua per forza ecco qua saliamo che dolce rumore vai tutto ciò spero di uscirne vivo chi sa il cuoco come sta passando dove andare a prendersi le medicine per il diabete l'insulina doveva prendersi qui il diabete chissà come come sta non era non se non allora esteticamente non è molto atletico non esteticamente esteticamente fisicamente però ti cade all'occhio che non è fisicamente portato per correre troppo quindi mi preoccupo per lui un bello sito che c'è qua guarda mi aspetto già una bella corsetta è bello il comando del generatore oh ma questo guasto come lo ripari oh no fuck ma è uno che sta russando o che è sto suono? o è la soundtrack? è la soundtrack vedete che sono troppi mini passaggi qua ve lo dico che c'è qualcosa che proprio ci insegue e sono sicuro che ci insegue pure qua dentro perché sono troppi passaggi è fatto apposto oppure sono passaggi sicuri per evitare comunque sia sempre il mostrone ecco ok allora qua non possiamo fare nulla qua è distrutta la porta ok ma noi dove siamo perché secondo te lo facciamo a vedere ok noi siamo qua il senatore deve essere qua eh lo sapevo ho ben capito se posso utilizzare o meno l'attore ciò lo vede gesù che crepe gesù che crepe gesù no il bagliato ok allora porca merda per la puttana non era quello ok devo riatirarlo lontano vai 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 stupido stronzo è come l'attito lontano oh merda mi sono salvato di culo non pensavo ci fosse un passaggio qua sotto per fortuna non riesce ad entrare qua perché sennò ero fottuto ma dai non rimasta sempre su una stronzata maronna cazzo non c'è proprio un tiro dritto non cazzo non cazzo ok ma sei più lontano non cazzo no nooo primo testamento ok aspettiamo se lontani si vede scassa ma poi in tutto ciò devo tornare anche indietro ok ok siamo al sicuro in realtà oh ma ci sono chiavi qua oh no oh no vado un 3 oh no sei avvento no no stai zitta no no stai zitta no stai zitta cazzo stai zitta stai zitta stai zitta stai zitta che riuscirà stai 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 ma perché lui sussurra e si sentono comunque ok e questa chiave non ti interessa no? a me sarebbe interessata il come a me sarebbe interessata il come ehm oh marda ok allora adesso resta da capire se devo andarne da qua c'è nel senso se devo cambiare zona devo fare qualcosa qua dentro c***o c***o ah sbaglio c'è un ah ecco si più casino c***o o giudo al trattamento fan che ragazzo è il trattamento fan non lo farei mai a ingannarti ma vedi che è un idiota niente la luce quando serve va a puttane ma dove cazzo si passava per Tonesu no vabbè sto male scusa sono le scale davanti e non le ho viste ok levati dal cazzo c'è un tacco di aumentare ho finito la roba da lanciarlo se ne va o se ne va oh merda sento che se entriamo pure qua dentro era la fine era molto più difficile stile alie oh ecco le scale che cazzo è andato devo salire le scale però non so come distrarlo ma che ho lanciato tutto lo faccio prima a tirarmi anche io guarda è rischioso molto rischioso ok ah ecco vedi perché c'erano anche qua perché lo stronzo si sposta anche più avanti no cioè non l'ha sentito oh Oddio per un attimo sembra che stesse entrando Cioè veramente guarda è una cosa assurda Io punto da tutta altra parte E sbatte vicino Che odio L'odio Cioè capito io punto in alto Magari per colpire lontano Non vedo un cazzo Oh Oh Mio Chco Ma che cosa stai male Chco 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 Ma che cosa stai Che sei Io ci riesco vivo da qua Che bastardone No ma secondo me torna Non lo so c'è questa sensazione che torna Questo è il canto della sirena come serve E urla urla Coglione Vedi se ci fate caso non ci stanno neanche dando risposta su cos'è con la roba Sostanza Sta specie di alieno no? È una figata che così no? Cioè nel senso non è che per forza tutto deve essere spiegato Diciamo Va bene anche il mistero ecco Comunque ho imparato che per la gioco ti dice corri devi correre alla fine C'è un cazzo da fare Ecco Non ti alzare Quadrofunghi Tipo 40 gradi e la mia gatta è sdraiata Praticamente A fianco alla mia coscia Mi fa un leggero caldino Ma scusa devo farlo qua prima Ok 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 E c'è C'è Allora non si vede un cazzo Proviamo qua Non si vede veramente nulla Pure con la luce a celle Aspetta se c'è lì no presa d'aria significa che dobbiamo entrare Ecco qua Immaginavo Però dico io che succederà qualcosa Su Oh Gesù Apri Ma ce l'hai il coso per aprirlo no C'è c'è il cacciavite Apri stu cazzo e coso Ok Ok Vediamo se l'ho sentita Un minuto Lo sento ancora che lì fermo Quel vecchio bastardo Dai Stronzato tentacolare Come faccio ad entrare lì sotto lo stronzo Non so perché è scappato Caga Non so quanto possa servire chiudere la porta ma ok Credo comunque possa servire Oddio Ho fatto tutte le manone qua Un pugnetone da paura fai con quello Ok Bene Questa Se l'apro Vabbè Cioè è arrivato pure qua E non ci credo Oh merda Non mi vedi Eh lo so Eh inchia Ma quanti sono Scusa Com'è possibile Che passa da una stanza all'altra Cioè nel senso Anche se è lo stesso ecco Come ha fatto a passare qua Non so dove Ma mi ha preso lo stesso Oh C'è un tentacolare che a volte mi toccava Ok Ok Oh È fatta F***a 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 Non vado Non va Va Oh c'è un alberello Pronto vendiamo tappeti Finley Caz? No, è Brody Pensavo era Finley con le luci che si arriva a casa It worked? Oh, thank Christ Finley was here, but we We got separated You alright? Aye, the rig is me though We're starting to sink Are you kidding me? How long till it goes under? Soon, if we do nothing Look, I need you to come down to the pontoons If we engage the tension winches in all four legs We can buy some time What's the point? The pontoons, the electricity They fucking things It's a fucking nightmare What you on about? You survived this long, haven't you? More than can be said for most of the poor bastards on this rig Christ, Kaz Somebody up there must like you Aye, that's what Roy keeps telling me Aye Well, he's a Barnsley fan, so He'll be used to Aye, you're no wrong there I'm no wrong about this either You're the jammiest bastard on this rig And we need that right now So let's do this, aye? Where's the idea of the A? You engage the winches in legs A and B And I'll do the others Easy There's a direct route down from engineering Aye, alright Well, well I'll find my way down Top man I'll give you a shout over this Tannoy if we're in business That is a verbo Dei pochi giochi horror Dove Praticamente I dialoghi Comunque sia Sono integrati molto bene Ma anche le battute Cioè Non stonano Tutto Sono caratterizzati bene i personaggi E cercano di sdramatizzare così Mi piace Mi piace molto sta cosa Mi piace molto usciamo di qua i pontoni allora signori sono filmati strani e roba del genere io termino qui questa terza parte spero sia stata di vostro gradimento ragazzi come sempre se volete vedere la quarta lasciate un like e arriverà presto ciao a tutti